Benvenuti, allora siamo arrivati al punto in cui Don Bosco finalmente sembra aver risolto un po' tutti i problemi che aveva, in realtà non sarà così e problemi ne avrà per tutta la vita, tanto che alla fine della vita dirà l'oratorio è cresciuto fra le bastonate, fra le bastonate va avanti e continuava ad avere dei problemi ed ecco aveva incominciato questa sua tettoia, aveva affittato tre stanze, c'era lì la sua mamma che lo poteva aiutare, poteva incominciare a raccogliere i suoi ragazzi in un posto sicuro e tranquillo, apparentemente, perché sentiva ancora qualcosa di più, gli aveva detto il suo buon amico Caffasso, ascolta il tuo cuore e il suo cuore piangeva, perché? Perché molti di quei ragazzi non avevano un posto per andare a dormire, alla sera dopo magari una giornata passata insieme Don Bosco li doveva salutare e molti tornavano a dormire sotto i porticati o in qualche squallido dormitorio pubblico e da tempo pensava di prenderli a casa, aveva tentato già due volte, ma tutte e due le volte era andata male perché il mattino successivo quei ragazzi che vi ho detto non erano dei gentiluomini erano scappati portandosi via non solo le coperte ma anche la paglia che era servita da materasso e tutto quello che avevano trovato a disposizione e allora Don Bosco rimaneva con questo dubbio, fino a una sera di maggio, una sera di maggio, una sera di pioggia molto forte, disse improvvisamente mamma ma c'è là fuori c'è qualcuno? Ma va, disse mamma Margherita, è la pioggia, ma alla luce di un lampo si stagliò al di là dei vetri fradicio e spaurito l'esile volto di un ragazzo. Don Bosco si precipitò fuori e la madre gridò sorpresa, una voce da quel mucchietto che sembrava di stracci, sono orfano, vengo dalla Valsesia, faccio il muratore ma non ho ancora trovato lavoro, non so dove andare. Il quindicenne, giunto sulla soglia di casa Pinardi, quella piovosa sera di maggio 47, tutto inzuppato d'acqua e in cerca di un tozzo di pane, non ebbe solo spalancato l'uscio, ne ottenne solo ciò che cercava, scoprì che c'era qualcuno che gli voleva bene. Gli sguardi del figlio e della madre si incrociano, Don Bosco già medita di tenere con sé il ragazzo ma si preoccupa anche di non forzare la libertà della sua mamma e chiede dove intendi andare dopo. Non lo so, chiedo solo la carità di passare qui questa notte in un angolo che non disturbi e scendono lacrime a regare il volto del muratorino. Lui le asciuga con il dorso della mano callosa. Don Bosco gli parla adagio sommesso. Se io, se io fossi sicuro che tu non sei un ladruncolo, cercherei magari di aggiustarti qui come posso. Ma altri mi hanno già portato via lenzuola e coperte e temo che tu mi porti via il resto. Il giovane lo fisso, il pianto improvvisamente bloccato. In casi come questo Don Bosco sentiva un brivido in tutta la persona e un gruppo segreto lo afferrava alla gola. Sua madre, che lo conosceva bene, tagliò corto. Lo sistemerò in cucina per stanotte, disse, e domani Dio provvederà. In tre raccolsero dei mattoni e quattro assi calcinate da sistemare sui mattoni. Improvvisavano un letto, ma non c'era il materasso. Don Bosco portò il suo e Margherita rimediò un paio di lenzuola e due coperte. Mentre il ragazzo si sistemava, la santa donna gli parlò con amore del lavoro e della fede, come soliano fare le mamme cristiane, e mormorò una preghiera con lui. Poi raccolse gli indumenti che tra macchie, buchi e pioggia si raccomandavano molto alle sue cure e posò una mano sulla fronte di quel figlio. Buonanotte, gli disse. Quella buonanotte allo stesso modo, trasformata in buongiorno, viene tuttora ripetuta ai ragazzi e a chiunque vive nelle case di Don Bosco e in tutto il mondo. Margherita continuò a darlo, specialmente quando al muratorino si aggiunse un orfano dodicenne che faceva il commesso in un negozio trovato gli da Don Bosco e quando arrivò anche Carlino Gastini, il garzone barbiere che poco tempo prima aveva quasi scarnificato la faccia del povero prete che era andato apposta nel negozio del suo padrone. Stava nascendo nell'oratorio di Don Bosco un pensionato operaio, il primo di una serie lunghissima. Nel giro di poche settimane gli ospiti arrivarono a sette e Margherita si mise le mani nei capelli. Se tutti i giorni mi conduci in casa qualcuno dovrai andartene tu, non ti resterà più nulla quando sarai vecchio. Mi resterà sempre un posto nel ricovero per anziani del Cottolengo, mamma rispose Don Bosco. E se venite a Valdocco abbiamo voluto far vedere questo gesto di mamma Margherita, la prima buonanotte e la prima carezza ad un bambino di mamma Margherita ed è un monumento che si trova al centro del cortile davanti alle stanze di Don Bosco.